che cos'è questo? un pallone sgonfi, una sfera, una ruota, no! questa è aria, aria foderata di cuoio e l'aria vola, hai scomprimdi? vola dalle fasce al centro, dalle fasce al centro lei non è un arbitro in fuori classe ci viene al cinema? non lo so, ci devo pensare avevi detto che venivi? solo se dicevi? si però come siamo in momento? allora al cinema non ci vengo ma è come se c'ero venuta grazie a tutti grazie a tutti